Che vorrete farci? Qui è tutto abbandonato, nonostante io abbia segnalato, risegnalato una questione di decoro urbano, roba che come una riva qui ai Taksurf con la ferrovia, ecco qua, gli diciamo sei arrivato a Taksurf, dove ognuno viene e fa come gli pare, date qua che roba, segnalato, risegnalato, me ne può fregare di meno.